Senatore Candiani, ha approvato in via definitiva il decreto per lo sblocco dei debiti della pubblica amministrazione. Che cosa prevede? Innanzitutto il decreto prevede che vengano pagati da parte dei comuni i debiti giacenti e che poi i comuni che hanno pagato i debiti nell'anno precedente, quindi nel 2012, per pagare gli investimenti fatti, non incorrano in una parte delle sanzioni previste allo sforamento del patto di stabilità. È un intervento sul quale alla fine ci siamo espressi favorevolmente perché tantissime nostre aziende sono in attesa di essere pagate e non c'è niente di più incivile in un Paese che non pagare i propri fornitori, soprattutto da parte della pubblica amministrazione. Certo abbiamo fatto presente sia durante il lavoro di commissione sia durante gli interventi in aula che l'intervento in sé non ci soddisfa completamente. Prima di tutto perché vengono messe a disposizione da parte del Governo solamente la metà delle risorse che serviranno invece per estinguere tutti i debiti della pubblica amministrazione. In questo caso vengono messi sul mercato più o meno 40 miliardi di euro quando ne occorrerebbero 90 e per i più 40 divisi su due anni. Comunque in ogni caso abbiamo dato un voto favorevole proprio perché per quanto poco è comunque un intervento necessario. Occorre poi essere molto attenti perché non ci si deve limitare semplicemente a fare la legge. Bisogna poi che la burocrazia di Stato, quella che cerca sempre di rallentare e di intoppare la macchina, non sia proprio anche di queste risorse rendendone poi difficile il pagamento. Quindi bisognerà intervenire molto e bisognerà stare molto attenti e questo è quello che vigileremo che il Governo faccia. Lei poi ha definito incapaci i senatori del Movimento 5 Stelle. Perché? Abbiamo assistito a qualcosa di veramente incredibile. In aula vengono a dare titoli a tutti e ovviamente sono sempre dalla parte della ragione. Poi finita la votazione è arrivata una velina, proprio la classica velina preconfezionata e hanno inserito anche la Lega tra coloro che avevano affossato un loro emendamento che prevedeva una parte di destinazione di una parte del finanziamento pubblico dei partiti a sostegno della microimpresa. Quando noi invece quell'emendamento lo avevamo votato. Quindi andare in aula e fare cacciarla non serve a niente. Imparino anche a seguire i lavori e soprattutto a non arrivare con le veline preconfezionate ma a seguire poi chi come noi veramente fa la scelta in funzione di quello che è l'utilità di un emendamento di un provvedimento di legge, al di là dello schieramento politico.